Siamo al giorno 18 novembre, sabato, e qui stiamo inquadrando la stazione spaziale, ore 17.27.50, in questo momento sta passando al punto più alto della sua orbita giornaliera. Abbiamo sentito la campana e dall'orario della parrocchia Regina Pacis, chiesa principale di Ostia. Adesso la stazione spaziale si nasconde dietro la casa, per poi tramontare dietro l'ombra della terra.